Jimmy Hogan e Martin Bukhovi, la rivoluzione tattica ungherese. La supponenza calcistica britannica è risaputa nel mondo. Furono proprio i figli di sua maestà a fondare la prima federazione calcistica mondiale nel 1863, dando il via ai primi campionati regolari. Da questo avvenimento si sono sempre considerati la patria del football, credendo così di poter guardare con alta regia e senso di superiorità ai movimenti calcistici degli altri paesi. Non tutti però sanno che a rimetterli con i piedi ben piantati in terra, dimostrandosi che sì, loro avranno anche avuto il merito di fondare questo magnifico sport, ma che ora i migliori al mondo erano loro, ci pensò a una piccola nazionale nel cuore dell'Europa che aveva imparato a giocare al football in maniera sublime, l'Ungheria. Veniamo a quegli attimi di pathos. L'Inghilterra non pendeva una gara da 24 incontri e aveva deciso così di organizzare un amichevole incontro i campioni olimpici in carica, proprio l'Ungheria, per dimostrare anche a loro che non contavano le competizioni ufficiali. Loro erano e sarebbero sempre rimasti migliori. Ma il 25 novembre 1953 i 105.000 spettatori rimasero ambutoliti di fronte allo show incontenibile dei Maggiari, che si portarono in vantaggio dopo solo un minuto e continuarono così per tutti i 90, fin quando il tabellone luminoso allo scadere recitò Inghilterra 3, Ungheria 6. Gli inglesi, non sazi di questa umiliazione, vollero la rivincita, stavolta in terra ospite. Peccato per loro che stavolta andò anche peggio, i gol presi divennero addirittura 7, a fronte di solo uno realizzato. Il mito dell'invincibile Inghilterra era appena andato in frantumi per sempre. Per cercare di spiegare al meglio come è stato possibile che una nazione così relativamente poco considerata nel mondo sia riuscita a dettar legge nei confronti di ogni squadra che incontrava sul proprio cammino, ci siamo affidati al libro Non solo Puskas, il calcio ingerese prima e dopo la Rani Xapat, l'appellativo con il quale è nota la nazionale di calcio dell'Ungheria degli anni 50, allenata da Gustav Sebes e composta dai celibri calciatori, tra i quali l'immortale Ferenc Puskas per l'appunto. Un libro che non soltanto vi consigliamo poiché ci ha fornito le informazioni utili per corroborare il testo di questa puntata, ma perché se letto attentamente permette di scoprire il vissuto di persone inimmaginabili radicate nel mondo ungherese, ancora poco valorizzato. Noi però non ci soffermeremo direttamente su questi grandi personaggi, che sono ormai entrati nella memoria collettiva, ma cercheremo di raccontarvi coloro che posero la prima pietra per la realizzazione di tutto ciò. Cercheremo di raccontarvi gli ideatori della scuola ungherese, che crearono il terreno fertile per la creazione dell'Aring Sapat. Un po' in tutto il resto del mondo l'arrivo del gioco del calcio risvegliò antiche fantasie, ricordi di infanzia, perché si sa l'amore per questo sport nasce innanzitutto dall'irresistibile voglia di star dietro ad un pallone. Non ci sono restrizioni che possano ingabbiare questa passione, ed è proprio quello che accadde in Ungheria all'inizio del Novecento, ancora facente parte dell'impero austro-ungarico. All'approdo di questa nuova tendenza molti protestarono, dicendo che si trattasse di un gioco violento e poco adatto, ma ormai a Budapest la scintilla era scattata. Il 19 gennaio 1901 venne fondata la MLSZ, la federazione calcistica magiara, alla quale aderirono 13 club. Un mese dopo l'ufficializzazione di tale atto prese vita il primo campionato nazionale, diviso in due serie. Il campionato nazionale 1 era formato da 5 squadre e si basava sul modello inglese, con partite di andata e ritorno, due punte a vittoria e uno a pareggio, oltre ad un meccanismo di promozioni e retrocessioni. Il 17 febbraio 1901 la sfida tra il BTC Budapest e il BSC Budapest fu la prima partita ufficiale del campionato e si concluse con risultato di 4-0 per il BTC. I primi anni furono dominati proprio dal BTC, grazie alla presenza rosa della prima stella del calcio magiaro, un ragazzo ungherese figlio di immigrati greci, Matildes Manno. Matildes giocava da attaccante al centro del sistema a piramide, allora utilizzato da tutte le squadre. Manno però era figlio dei suoi tempi e non concepiva il calcio come un'occupazione a 360 gradi. Infatti ricoprì anche i panni del pattinatore di velocità su ghiaccio, si piazzò sul podio sia ai campionati europei che a quelli mondiali. Del campione di canottaggio, 11 campionati nazionali e membro del lotto ungherese alle Olimpiadi di Parigi 1912 e sempre rimanendo alle Olimpiade indossò anche i panni dell'artista, dato che si era diplomato all'Accademia di Belle Arti di Monaco come scultore. In gara si presentò con 27 opere tra dipinti e sculture, vincendo la medaglia d'argento dedicata proprio alla scultura, per un'opera rappresentante una scena di lotta. Il calcio ungherese di quei tempi era ancora grezzo e non faceva affidamento minimamente sulla tattica, qualità per la quale il calcio maggiaro diventerà poi non solo un punto di riferimento per tutta Europa, ma proprio una scuola considerata come il punto più alto toccato da questo sport, a cavallo tra gli anni antecedenti e successivi ai conflitti bellici. Il primo grande maestro che permise di dare il via a tutto ciò ha un nome e volendo anche un cognome, Jimmy Hogan. Era inglese di nascita ma cattolico di religione, dato che era emigrato nel Langshire dall'Irlanda in tenera età per sfuggire alla povertà e lavorare nelle aziende di cotone che pululavano in quella zona alla fine dell'Ottocento. Lavorare, andare in chiesa e poi se c'era tempo qualche birra al pub. Questa era la vita un po' monotona del nostro parroco, soltanto che anche con i piedi non se la cavava male. Infatti Jimmy iniziò ad essere scelto dal Roche, dal Barley, fino all'approdo in club più prestigiosi quali Fulham e Bolton. Con i londinesi raggiunse anche una semifinale di Coppa d'Inghilterra persa ad Anfield contro il Newcastle. Jimmy, allo stile inglese, basato soprattutto sulla fisicità, sulla corsa e sui palloni lunghi, privilegiava quello scozzese, incentrato su passaggi corti, tecnica e gioco collettivo. In allenamento la preparazione fisica era sì intensa ma sempre accompagnata dal pallone, che nel calcio britannico, in particolare dal mercoledì al weekend, era poco più di un oggetto ornamentale. Hogan ebbe l'occasione di misurarsi nel 1910 in una tournée in Olanda nella quale disputò un amichevole con la squadra locale del Volendam. Qui rimase piacevolmente colpito da quei ragazzi, tutti dilettanti e meno dotati degli avversari ma con grandi margini di miglioramento. Disse a se stesso che sarebbe tornato per insegnargli tutto quello che sapeva. Lo fece lo stesso anno, tenendo risultati strabilianti al punto che nel giro di poco passò alla nazionale olandese. La voglia di tornare a giocare era però troppa e soltanto pochi mesi dopo Jimmy decise di lasciare il suo ruolo di commissario tecnico della nazionale olandese per tornare in Inghilterra, fin quando non incontrò due persone che gli cambiarono per sempre la vita, James O'Croft e Hugo Maisel, che informati del suo passato da allenatore, gli chiesero di preparare la nazionale austriaca all'imminente Olimpiadi di Stoccolma. Nonostante una discreta figura e un'eliminazione ai quarti, Jimmy riuscì fin da subito a spargere in Austria e soprattutto nei club di Vienna il suo verbo calcistico, quello che quando fiorì poi con l'aiuto di Maisel diede il via alla scuola viennise. Il resto lo fece la storia, quella vera, Gavrilo Princip sparò l'arciduca Francesco Giuseppe, gettando l'interrorepoa nelle fauci della guerra. In mezzo a questo trambusto venne catapultato pure Hogan, il quale da un giorno all'altro si ritrovò ad essere considerato un nemico vista la sua origine inglese. Riuscì comunque a mettersi in salvo grazie alla complicità dei fratelli Blythe, proprietari di uno dei maggiori impori di Vienna, trascorrendo il tempo a insegnare il tennis ai figli della famiglia. Il grande obiettivo di Hogan era però quello di riuscire a tornare ad allenare al più presto e ci riuscì già dal 1916, sempre grazie all'intercessione dell'ex amico vienese Ugo Maisel che lo sponsorizzò per la guida dell'MTK Budapest. In Ungheria il cattolico dell'Hansha rimase un biegno, in uno dei momenti più bui della storia europea e qui ebbe modo di rivoluzionare l'MTK Budapest, nonché l'idea che gli ungheresi avevano del gioco e su come esso doveva essere interpretato. Lo fece grazie a ottime strutture per l'epoca e a una rosa giovanissima. Pensate che la maggior parte dei giocatori più rappresentativi erano stati arruolati per la guerra. Nonostante ciò riuscì a lanciare ragazzini come Georgie Horth e Joseph Brown e soprattutto Himre Schlosser, destinato a diventare il miglior capocannoniere della storia della prima divisione Magiara. A loro il nostro Jimmy non solo fece vincere campionati a mano bassi, una sola sconfitta in due stagioni, ma insegnò uno stile di gioco e un modo di allenarsi differenti che rimasero impressi sulla loro pelle e nella cultura calcistica ungherese. Infatti, anche se anche lui utilizzava la famosa piramide di Cambridge, ovvero il sistema 235 dell'epoca, il britannico lo declinò in maniera completamente differente grazie a una preparazione impostata sul lavoro fisico combinato all'uso del pallone, strumento poi che divenne il punto centrale dell'idea dell'MTK e successivamente di tutto il paese. Possesso palla, scambi brevi e rasoterra, movimenti dei giocatori senza palla negli spazi per offrire più possibilità ai compagni di servirli, oltre a una cura maniacale dell'aspetto tattico. Questi erano i punti cardine di quella che sarà ribattezzata la scuola ungherese. Oga non si fermò qua. Consapevole degli errori dei suoi allenatori in Inghilterra, si mise personalmente in campo, mostrando e consigliando come fare o non fare quel gesto tecnico, quel movimento. I suoi giocatori, così facendo, grazie ai suoi consigli, migliorarono singolarmente, sia dal punto di vista tecnico che nella lettura delle situazioni di gruppo. Quando Jimmy decise di tornare in Inghilterra, tutta la squadra dell'MTK l'omaggiò salutandolo con l'appellativo carissimo Bakshi, dove Bakshi non significa soltanto zio, ma è anche il termine usato per definire con estremo rispetto le persone più grandi, alle quali ci si è legati da un forte sentimento di affetto. Questo sentimento di affetto era reciproco e ricambiato anche da parte di Jimmy Hogan e per questo, dopo aver allenato altre squadre in giro per l'Europa come lo Young Boys di Berna, la voglia di tornare dei suoi ragazzi all'MTK fu tanta. Soltanto che, nonostante fossero passati pochi anni dal suo addio, l'Ungheria era mutata profondamente. Il paese era retto da una monarchia senza re, con a capo un militare autoritario e per questo lui e molti altri giocatori decisero di lasciare il paese per trovare soluzioni migliori. Il suo ricordo rimase però talmente tanto radicato nella memoria collettiva ungherese che quando la nazionale nel novembre 1953 annichili a Wembley l'Inghilterra, la squadra spiegando le ragioni che avevano permesso il successo di tale prestigio, di del merito a Jimmy Hogan, dicendo che avevano giocato esattamente come lui gli aveva insegnato. Quando la storia del calcio ungherese sarà scritta, il suo nome dovrà essere scritto in lettere dorate, Kosozonom, ovvero Grazie Jimmy. Ma Jimmy Hogan non fu l'unico artefice capace di seminare un nuovo modo di fare calcio in Europa centrale. A portare avanti il suo lavoro arrivò Marton Bukovi, il cui maggior pregio fu quello di riuscire a inventare il centroavanti arretrato. Ma cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta. Marton Bukovi nacque a Budapest e giocò nel Ferenkvaros, nel quale vinse diversi trofei, tra cui la Mitropa Cup del 1928, sconfiggendo l'Astro-Vienne in finale. Nel 1935 decise di approdare in Francia, dove giocò con il 7, ma sempre quell'anno riprese lo zaino in spalla e si trasferì in Jugoslavia, nel quale restò per più di un decennio e qui diventò allenatore dopo essersi ritirato. Col Gradansky, squadra antenata della Dinamo Zagabria, sotto il profilo tattico mantenne il marchio di fabbrica delle VVM, inventato negli anni 30 da Herbert Schaapman, l'allora manager dell'Arsenal, il quale sosteneva che dopo il cambio di regole che aveva stabilito che per il fuorigioco doveva esserci un solo uomo oltre che il portiere e non più due come prima, teorizzò un 3-2-2-3 che permetteva di giocare in maniera spettacolare, un modo del quale c'erano due punti fermi, uno era indiscutibilmente l'attaccante, meglio ancora se grosso e potente e alto, e magari dotato di discreta tecnica. Soltanto che nel frattempo Bukovi aveva lasciato la Jugoslavia e si era trasferito in Ungheria, proprio all'MTK Budapest, club che nel 1949, a fronte di un'offerta rinunciabile di 12 miliardi di lire, fu costretto a vendere alla Lazio la punta di diamante della squadra, l'attaccante Hoffling. A quel punto Bukovi dovette creare un'altra soluzione. Inizialmente proseguì con l'idea delle tre punte centrali, per poi decidere di spostare il ferimento offensivo, il cento avanti, 20 metri indietro, dando così vita a un modulo diverso, 3-2-3-2, attraverso il quale il giocatore con il numero 9 sulle spalle aveva il compito di raccogliere i palloni provenienti dalla difesa, distribuendoli alle ali e agli attaccanti, suggerendo e creando anche gli spazi per segnare. In poche parole, una versione all'antica del trequartista moderno. Era nato il centro avanti arretrato. Una piccola grande rivoluzione che poi sebe e si adatterà alla grande Ungheria degli anni 50 e che sarà anche esportata pure in Sud America da un altro mago della panchina magiara, Bela Gutmann, anche lui passato, anche se per un brevissimo periodo, per la MTK Budapest. Il modulo 4-2-4 atticchi anche in Sud America, diventando il punto di riferimento di Flavio Costa, mista del Brasile campione del mondo in Svezia nel 58, il primo mondiale di Pelè per intenderci. Bukovi divenne anche successore del suo grande amico Sebes, alla guida della nazionale nel 56, visto che la federazione aveva optato per una scelta di continuità, anche perché da lì a poco si sarebbero tenuti i mondiali di Svezia e tutti credevano che la sconfitta a Berna contro la Germania fosse stata soltanto un passo falso, ma che stavolta il tanto agognato trionfo sarebbe arrivato. Purtroppo però le cose non andarono nel verso spiccato. Bukovi rimose in sella soltanto per otto partite, nelle quali riuscì a infliggere all'Unione Sovietica la prima sconfitta interna della propria storia, pochi mesi prima che l'armata rossa sarebbe entrata a Budapest. Marton riprenderà le redini dell'MTK, portandola a vincere per la terza volta il titolo nazionale nel 58, per poi lasciare il suo paese e cercare di portare il suo credo anche fuori dai confini nazionali. Ci provò prima la guida della Dinamo Zagabria per quello che poteva essere il romantico ritorno al passato jugoslavo, ma ci riuscì solo in maniera sostanziale in Grecia, nell'Olympiakos, nel quale oggi non conta sottolineare il trionfo, ma il modo in cui lo fece. Umiliò i rivali del Panathinaikos con un rotondo 4-0 e vinse le prime 12 partite su 14. Un record che rimarrà ininterrotto per quasi 46 anni. Ancora una volta però gli avvenimenti politici ebbero il sopravvento sulle questioni sportive. In Grecia nel giugno del 67 ci fu un colpo di stato militare che rovesciò la monarchia di re Costantino II, instaurando un regime autoritario di destra. L'Olympiakos, tradizionalmente legato alla classe operaia, ricevette un duro colpo con la destituzione del suo presidente Georgios Adrenopoulos e l'esonero anche dell'allenatore Bukhovi, reo di provenire dall'Ungheria, un paese del blocco sovietico e quindi nemico. Per l'ex minister dell'MTK si trattò dell'ultima panchina. Tornò a Budapest nella quale visse fino al 1985. Morì 12 mesi prima di Gustav Sebes, l'uomo che con lui, e Bella Gutmann, rivoluzionò il calcio ungherese mondiale, partendo dalla tattica.